E' una partita per noi fondamentale, come lo sono tutte. Dobbiamo cercare di fare questi tre punti e sfatare un po' il tabù in casa che non riusciamo mai a portarci questa vittoria. Dopo il Vieste, l'Otranto per una doppia tappa casalinga in sette giorni, Marco Milella ha le idee chiare, la stagione del Barletta 1922 è al momento di svolta. A dieci turni dal termine del campionato e con 30 punti in palio, i biancorossi di Massimiliano Tangorra devono accelerare i giri nel motore per consolidare quella zona playoff raggiunta domenica grazie al 2-2 interno contro il Vieste. Un pareggio acciuffato in rimonta con i centri di Varsi e Caputo in controtendenza rispetto agli ultimi incontri dove spesso nel finale il Barletta aveva lasciato agli avversari punti preziosi. Domenica non era facile, soprattutto recuperare due gol di svantaggio in casa. Questa squadra ha carattere, è normale, ci sono dei giocatori che hanno più carattere, però non è facile comunque. L'importante era riuscire da quanto era meno il pareggio, ci siamo riusciti e ora bisogna pensare alla prossima e vincerle tutte. La classifica vede i biancorossi quarti con 28 punti alla pari con Ugento e Audace Barletta. Nel Mirino c'è però anche il distacco tra Vigortrani e Corato. Oggi terza e seconda forza del campionato è consistente in 6 punti. Non dovrà aumentare per far sì che i playoff si disputino. Bisogna solo fare punti, partita dopo partita e poi alla fine vedremo che cosa dirà il campionato. Alla terza annata in biancorosso, Milella è uno dei veterani del gruppo. Il centrocampista di origini campane ruota con Diomandè e Camporeale nelle scelte di Tangorra, ma poco conta la priorità e il risultato di squadra. Gioco, non gioco, 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 non gioco. Io ci metto sempre il cuore, ci metto sempre tanta grinta. Per me c'è solo il risultato, vincere. Ogni domenica gioco solo per quello. Speriamo sempre di riuscirci. Domenica al Manzi-Chiapolin sarà tempo all'ora della seconda sfida consecutiva tra le Muramiche per il Barletta 1922. Fondamentale, come successo contro il Vieste, dove la piazza si è mobilitata per raccogliere fondi e sostenere la causa di Emilia, giovane mamma barlettana affetta da un brutto male, sarà l'apporto della tifoseria. Non è facile vedere il Barletta sempre rincorrere, sempre a lottare per riuscire ad arrivare nel proprio obiettivo. Non è facile da vedere. Però chiedo ai tifosi, insieme a tutta la squadra comunque, di venirci sempre incontro, anche domenica, di essere in tanti e di riuscire insieme a salire questa categoria.